Svolto a Cereniola il consiglio comunale in cui sono state insediate nonostante il parere contrario delle opposizioni le commissioni di inchiesta su Gemma e la vicenda dell'inceneritore di Borgo Tressanti. E' stata nominata anche la delegata per le pari opportunità, il sindaco Franco Metta ha indicato Anna Maria Mira dell'opposizione. Nomine anche per giudice di pace e corte d'appello, eletti Frisani per la maggioranza e Cassarella per l'opposizione. L'obreggio è stato dedicato al punto su cui il Partito Democratico parla della situazione vitivinicola. Il sindaco ne aveva già parlato in uno convegno circa un mese e mezzo fa, parlando anche di forti tensioni sociali in autunno.